Storicamente, pur non essendo di Arezzo, ma purstandoci da qualche anno, è una delle zone dove si registrano il maggior numero di arresti, proprio per spaccio di sostanza stupefacente. Ed è la piazza dove maggiormente si concentra il controllo del territorio. Un blitz nella piazza dello spaccio Aretino, la più affollata, Campo di Marte, a pochi passi dalla stazione ferroviaria, una zona centralissima che guarda il parco del Pionta. Squadra mobile, volanti, polizia municipale, oltre 15, le pattuglie per controllare circa 150 persone. L'ente di ingrandimento nella galleria Valtiberina è all'interno della sala scommessa, dove i poliziotti hanno controllato dai 30 ai 40 richiedenti asilo. Il blitz è durato un'ora circa, sono finiti in manette tre pusher, tutti con precedenti penali, un nigeriano, un marocchino senza permesso di soggiorno e un cittadino della Guinea richiedente asilo. 53 grammi di sostanza stupefacente sequestrati tra hashish, marijuana e cocaina, di cui i pusher hanno cercato di disfarsi. La droga era conservata in un guanto da bambino, una custodia di occhiali e alcune dosi erano state gettate all'interno dei cestini della sala scommesse. Anche quest'operazione conferma come lo spaccio al minuto sia sostanzialmente gestito da persone così, un po' ai margini del tessuto sociale, senza nulla da perdere sostanzialmente. Purtroppo, sì, uno di questi soggetti che abbiamo arrestato è stato trovato nella disponibilità di un permesso di soggiorno per richiesta asilo. Gli altri due sono stati trovati sprovvisti di titoli di soggiorno. All'interno del negozio Sisal abbiamo trovato tanti soggetti extracomunitari con un permesso di soggiorno o per richiesta asilo, o per protezione umanitaria, o per protezione sussidiaria.